Arriba la nuova generazione di Ford Ecosport, la sesta di Volkswagen Polo, la più digitale di tutte. Infine uno Space Tourer Concept, frutto della collaborazione fra Citroen e Ripcarla. Versatilità e praticità all'insegna della libertà con Citroen Space Tourer. La collaborazione fra la casa francese e Ripcarla prosegue con la presentazione di un concept del van di Citroen che grazie all'allestimento di Postle si trasforma in oggetto che fa della praticità la sua arma principale. Uno Space Tourer che vi permetterà di passare i notti all'aria aperta e che vi accompagnerà nelle vostre avventure. Le caratteristiche da fuoristrada vengono ulteriormente migliorate dalla trasformazione 4x4 di Automobile Sed Angel. Il motore blu HD 150 SNS CM6 fornisce potenza e versatilità in qualsiasi momento. Ford alza il sipario su una nuova generazione di Ecosport. Il SUV compatto dell'ovale blu presenta numerose novità. In primo piano sicuramente il motore diesel 1.5 Ford Eco Blu e la trazione intelligente. Le possibilità di personalizzazione sono molte e per la prima volta sarà disponibile anche nell'allestimento ST-Line. All'interno comfort ed eleganza non mancano grazie a dotazioni come il controllo della velocità di crociera con limitatore regolabile, il volante riscaldato, la telecamera posteriore. Uno degli obiettivi del modello come spiegano dalla casa è di coniugare la praticità di un SUV con la versatilità di una city car. L'auto sarà in vendita entro la fine dell'anno e verrà prodotta nello stabilimento di Craiova in Romania. Ma veniamo al motore. Il nuovo 1.5 diesel Eco Blu è pensato per offrire maggiore potenza garantendo emissioni ridotte. Dalla metà del 2018 sarà disponibile una versione a trazione anteriore dell'Eco Blu 1.5 da 125 cavalli mentre il TDCi sempre 1.5 da 100 cavalli sarà acquistabile sin dal lancio. Anche il pluripremiato 1.3 cilindri Eco Boost con vari livelli di potenza sarà disponibile dalla metà del 2018 con cambio manuale a 6 marcio automatico. Con la sesta generazione dell'Apollo Volkswagen punta a riscrivere un altro capitolo di storia dell'automobilismo un modello l'Apollo apprezzato in tutto il mondo e che ad oggi considerando anche le versioni derivate ha venduto la bellezza di 16 milioni e mezzo di esemplari. La prevendita in alcuni paesi europei è già iniziata e tra i punti forti rimangono sicuramente le dotazioni di serie come le 5 porte, il sistema di controllo perimetrale front assist con funzione di frenata, di emergenza e il riconoscimento dei pedoni. Potrà essere configurata in tre allestimenti Trendline, Comfortline e Highline mentre entro la fine dell'anno si aggiungerà anche la sportiva GTE. Al lancio sarà disponibile in tre motorizzazioni fino ad arrivare ad averne otto fra benzina, diesel e metano. Se l'esterno colpisce per le nuove linee il vero pezzo forte sono gli interni e infatti la prima auto della sua categoria è disponibile con una strumentazione completamente digitale, infine con 14 tinte per la carrozzeria non manca nemmeno la possibilità di personalizzarla visto che per i più esigenti è previsto anche il tetto colorato a contrasto. La famiglia S Design si allarga anche sulla Fiat Tipo, Land Rover rappresenta Discovery SVX, Ford, la nuova Mustang. Dopo la 500X lanciata sul mercato lo scorso giugno Fiat allarga la famiglia S Design anche sulla Tipo disponibile a cinque porte Station Wagon, la si riconosce subito dalla colorazione grigio Metropoli esclusiva per questa versione che di fatto si va poi ad aggiungere a quelle già disponibili e poi soprattutto si riconosce anche dalla Calandra sviluppo orizzontale che abbraccia tutto il frontale fanno il loro esordio sul modello anche i fari con tecnologia Bixeno l'allestimento si completa dai cerchi in lega da 17 oppure da 18 a taglio diamantato all'interno l'abitacolo è curato ed inedito, i sedili sono in pelle e tessuto mentre sulla plancia spiccano i dettagli in nero lucido ampia gamma di motorizzazioni con la possibilità di scegliere fra il brillante benzina 1.4 T-Jet da 120 CV il 1.4 T-Jet sempre da 120 CV ma alimentato a benzina e GPL oppure il turbo diesel 1.6 Multijet da 120 CV di potenza il prezzo di partenza della gamma Tipo è di 13.750 euro e se la si acquista con il finanziamento 1.000 in banca si ricevono 1.000 euro sul proprio conto corrente la si potrà scoprire in occasione delle porte aperte del 16-17 settembre una Land Rover per gli amanti dell'off-road o forse è meglio dire per chi per l'off-road ci va davvero matto perché di certo le auto del marchio hanno da sempre avuto un buon rapporto con la guida in fuoristrada ma questa volta Land Rover va oltre presenta la Discovery SVX modello che affiancherà la Range Rover Sport SVR la Range Rover SV Autobiography sarà acquistabile solamente con il motore da 5 litri V8 Supercharged da 525 CV e 625 Nm di coppia sul Discovery SVX debutta l'idraulic Active Roll Control un sistema che incrementa l'articolazione delle ruote e il controllo della scocca migliorando la trazione del veicolo in percorsi fuoristrada la trazione è poi assicurata dai differenziali centrale e posteriore attivi bloccabili elettronicamente che operano insieme ad un Terrain Response 2 ottimizzato per avere trazione su qualsiasi superficie nuovo design, nuovi motori e tecnologie di assistenza alla guida davvero innovative la nuova Mustang si presenta al mercato europeo con un aspetto più elegante ma soprattutto sportivo potenza e velocità non mancano con il motore V8 5000 da 450 CV abbinato al nuovo cambio automatico a 10 rapporti le tecnologie a bordo sono molte vanno dall'Active Valve Performance Exhaust fino alle tecnologie di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza all'interno notiamo materiali morbidi, linee raffinate e un quadro strumenti digitale LCD da 12 pollici tornando invece agli esterni ora il profilo del cofano è più ribassato con le bocchette di ventilazione integrate che le conferiscono un aspetto più slanciato per quanto riguarda le colorazioni sarà disponibile nei colori Kona Blue, Orange Fury e Royal Crimson Red per chi non si volesse spingere fino ai 450 CV della 5000 c'è anche la 2003 EcoBoost da 290 CV in grado di offrire una risposta immediata al tocco del gas è decisamente divertente infine novità anche sul fronte delle modalità di guida a quelle Normal Sport, Track e Snow Wet si aggiunge quella Drag Strip in grado di ottimizzare le partenze da fermo e la My Mode che permette di settare le impostazioni preferite di guida